Francesca Lollobrigida va a vincere l'argento nei 3000 metri femminili di patinaggio velocità in queste chiamiamole proprio olimpiadi di Tokyo Argento dunque per il nostro paese, la bella campionessa trionfa in 3.58.06 a respalle di Irene Schouten, una olandese, oro in 3.56.93 al record di tipo olimpico medaglia di bronzo, terzo posto per Isabelle Weidermann che è una donna canadese con 3.58.64 per la bellissima nocchè magnifica Francesca Lollobrigida, la terza partecipazione nei giochi si tratta della prima medaglia olimpica ed è anche prima al podio femminile nel patinaggio di velocità un traguardo importante no? Forse disatteso, un argento che parla chiaro, un argento che non dispiace ma che lascia esattamente felice il pubblico che ovviamente partecipa e vede la Lollobrigida che è più felice e nonché più contenta che mai, la donna si sarebbe addirittura commossa se non vado errato il video termina qua, complimenti a Lollobrigida, iscrivetevi, commentate, ciao da Leandro, narratore italiano